Partita senza storia al Palascoppa, finita appena iniziata, solita partenza al razzo dei cagnacci che aggrediscono gli avversari senza lasciare nessuna via di scampo. Billy va a canestro dopo appena 19 secondi e coadiuvato da Maida, anche lui scatenato dopo soli tre minuti, mettono Rende sotto 9-0. Non si fermano i soveratesi e il parziale si chiude con uno scarto abissale 21-2 per un Rende frastornato solo due liberi. Nel secondo quarto, coach Pirillo fa riposare i suoi big mentre Rende ha una reazione d'orgoglio e si aggiudica il tempo per 11-17 recuperando nel punteggio che però rimane saldamente in mano soverato. All'intervallo lungo il tabellone recita 32-19. Al rientro in campo si ripete il copione iniziale, oltre ai due sopra citati entrano in partita anche Riverso, Tuccio e tutti gli altri orchestrali soveratesi. Per Rende non c'è scampo, altro parziale spaventoso, 24-10. Si protocolla il vantaggio massimo, più 27. Il finale vede i locali in tutto relax e Rende ne approfitta piazzando un buon 20-9 riportando il distacco a livelli onorevoli. Finisce 65-49. Ancora una prova di forza del team Pirillo che si sbarazza senza fatica di una combattiva macerba bimbun Rende, mai veramente in partita tranne quando i locali si sono concessi delle pause di controllo del match. Ancora una splendida partita del duo mai da falle in grande spolvero, in doppia anche Gabriele Tuccio, ma ottima prova corale di tutta la squadra. Per Rende, imbrigliato il bomber basta, poco da segnalare, tanta buona volontà, ma poco da fare contro un avversario più forte ed esperto. In doppia, Madrigrano, discreta prova di Giacoya. L'NBS è consolida così la terza posizione in classifica. Domenica prossima è atteso sul difficilissimo campo della cestistica gioiese, capofila del torneo con grande merito. Il pronostico ovviamente è tutto per i gioiesi, ma Soverato non ha niente da perdere. La squadra gode di ottima salute fisica e mentale. Di sicuro sarà un match combattuto e ad alto contenuto spettacolare.